Il carnevale di Giulianova è il primo carnevale con i carri nella provincia di Teramo e il secondo in Abruzzo. Questo è un risultato straordinario da un'idea che è partita nel 2020, che poi grazie alla grandissima partecipazione della città, dei quartieri, di tanti ragazzi, di tanti uomini e donne che si sono messi a disposizione delle idee dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a realizzare in questo momento l'unico carnevale con i carri che c'è in zona e questo ci deve rendere veramente orgogliosi e fieri del lavoro, ma non tanto noi quanto, ripeto, le persone che materialmente danno la possibilità ai nostri ragazzi di non finire in qualche città limitrofa, ma potersi divertire qui a Giulianova e in provincia di Teramo. Assessore, il carnevale vede un doppio appuntamento, estivo ed invernale? Sì, è così, è stata pensata così dall'inizio, si partiva dallo spunto preso dall'organizzatore, dal direttore Daniele Panichi che realizzò il carnevale estivo a Giulianova e da quella che era la tradizione giuliese invece rispettava le date canoniche e quindi questa doppia data. È una bellissima festa dove si è riscoperto in questa epoca diciamo fatta di social e di spersonalizzazione invece uno spirito di appartenenza da parte dei cittadini, un grande coinvolgimento dagli anziani e bambini e questa è la vera festa che anima il carnevale, ringraziamento va a tutti i protagonisti dei vari quartieri della città. Sì, riprendiamo dopo appunto il 2020 e quindi è un carnevale che raccoglie tantissimo entusiasmo, tantissima voglia di ritornare a divertirsi nei luoghi poi caratteristici della città, quindi nel centro del Lido, nel centro del paese. I carri sono dei nuovi carri che hanno dato la massima espressione alla fantasia, alla creatività di ogni singolo quartiere. Non è una competizione ma bensì è una festa della città, una festa dei quartieri e grazie a loro si è potuto realizzare. Noi abbiamo lanciato l'idea nel 2020 ma è stato soprattutto l'entusiasmo poi riscontrato dalla città e dagli stessi carristi, quindi i quartieri a far sì che il carnevale poi potesse continuare con sempre maggior vigore e importanza. No, l'organizzazione è rimasta uguale, la cosa da analizzare secondo me è anche positiva e che si inizia a respirare proprio l'aria del carnevale giuliese, quindi inizia a nascere proprio la tradizione e questo è l'aspetto importante che se vogliamo che questa organizzazione duri nel tempo, le contrade stanno lavorando alla grande, si stanno impegnando, chi per i carri, chi per i gruppi mascherati, quindi c'è molto entusiasmo e questa è la parte propositiva di questa manifestazione a cui tengo parecchio questo aspetto qui. Ci sarà anche una madrina? Sì, Francesca Brambilla che sarà sia madrina che DJ set nella serata conclusiva del carnevale. Direttore ricordiamo gli appuntamenti allora. Gli appuntamenti sono domenica a giugno a Lido a ore 15 e martedì 21 febbraio al paese, a sempre ore 15. Che cosa rappresenta il vostro carro? Il nostro carro ha come titolo la regina bianca, rappresenta una tigre che tenta di essere domata da un domatore che ha alle spalle. Questa secondo noi potrebbe essere un'allegoria che vuole rappresentare lo spirito libero della tigre che cerca di essere imbrigliato dalla società, dalle situazioni eccetera. Il nostro corpo di ballo è formato da donne maggiormente, per cui vorremmo far capire anche lo spirito libero delle donne in una situazione come questa che in Siria vede queste situazioni, per cui vorremmo dare questo messaggio di libertà e di pace. Noi facciamo come tema il circo, vedrete 130 all'incirca di persone a terra che rappresenteranno i pagliacci, siamo quasi tutti clown. Noi vogliamo dare questo tema di allegria dopo un periodo così brutto che c'è stato, per ritornare a rivivere e a sorridere, che è la cosa più importante adesso. Il nostro carro come tematica e come titolo soprattutto è La natura si ribella. Diciamo che come figura centrale è un uomo messo in gabbia e con gli animali che festeggiano finalmente perché ormai siamo arrivati a un punto che questi animali vogliono finalmente essere liberi e non essere sempre predati. Quanti personaggi comprende il carro? Il carro diciamo sulle 50-60 persone. E gli animali? Gli animali sono anche una cinquantina, perciò un bel gruppo. Allora, noi rappresentiamo la contrada di Colleranesco e il carro è dedicato alla famiglia Adams. Quindi ci sono le figure della famiglia Adams sul carro e tanti figuranti che hanno anche delle coreografie iniziali di presentazione del carro. Da quanti personaggi è composto il carro? Beh, i personaggi o almeno i figuranti ne sono diversi. In particolar modo quelli che rappresentano Mercoledì, che è il corpo di ballo principale. Per le persone più mature, fino a ieri sapevamo che Mercoledì era un giorno della settimana. Adesso sappiamo che Mercoledì è una maschera. E noi ce ne saremmo tanti di Mercoledì. Grazie. Grazie. Grazie.